buongiorno ragazzi tocca andare vicino a wii con voi volevo un attimo raccontarvi quello che è il mio programma diciamo per i prossimi giorni ma prima di questo vi ricordo sono un piccolo canale sostenetemi un like per me un mi piace vuol dire tanto la vostra iscrizione che è gratis per me vuol dire tantissimo la cosa poi che è veramente fondamentale per noi per divulgare diciamo quello che è il mio il mio e il vostro credo perché se mi guardate vuol dire che comunque così diversi non siamo sia quello di scelare condividere il più possibile allora diciamo innanzitutto ne vengo da una giornata di nuovo piovosa ma sono stato all'aperto e quindi ho questo mind flow positivo perché comunque se mi fossi seduto in casa a questo punto perlomeno ognuno è fatto come è fatto io rispetto tutti però diciamo anche la giornata in pantofole ci sta lasciamo stare le pantofole anche la giornata sul divano ci sta anche la giornata più tranquilla a casa ci sta però poi uscire respirare magari anche solamente un'oretta un po d'acqua anche se diciamo molto umida c'è un tasso di umbilità del 80 per cento con pioggia fa molto ricordiamoci l'importanza di questo mind flow positivo a proposito di questo vi volevo ricordare quella che è la mia situazione recente in cui ho fatto sostanzialmente un bilancio calorico ristretto quindi una calorica restriction con una quantità di proteine tutto sommato non bassissima che mi aiutasse a mantenere un buon livello di tono muscolare anche in allenamento veramente io ho detto che simbolicamente poi non posso andare a vedere nel dettaglio ogni singolo giorno come ho fatto il mio schema di fat shifting un quarto diciamo di quello che avrei teoricamente mangiato quindi una fame pazzesca ieri mi sono finalmente un po rilassato ho mangiato di più allora diciamo raddoppiando il discorso dei livelli di grasso la la i lipidi fanno la differenza quindi la fame la sazietà arriva subito e le calorie crescono molto però ci sta ve l'ho detto spezziamo sempre questo saliscendi di metabolismo deve non deve mai avere la percezione che non arriverà mai più una caloria diciamo in eccesso una giornata magari un po più calorica anche sempre rimanendo volendo negativi ma rispetto le poche calorie del giorno prima fanno una grossa differenza questo volevo ricordare prossimi il programma per i prossimi giorni è riprendere un po più lo schema volevo alternare due giorni di chiamiamolo fat fasting magari uno due giorni di fat fasting con un bilancio calorico che volevo attestarmi sulle 500 600 calorie non di più proprio per non scendere troppo però ci sto un po sto ancora valutando questa possibilità qua perché lo zero proteine o diciamo il simile zero il carboidrati non mi interessano le proteine mi spaventa un po sta cosa sta assenza di proteine che poi sono quelle nostre paure attavi che due giorni non cambiano la vita anzi sicuramente possono solo migliorare quindi più ci penso più mi sto convincendo almeno due giorni di fat fasting quindi solamente grasso magari olio di cocco e vediamo dove andiamo a finire oppure potrebbe essere una formula intermedia due acciughine con olio d'oliva che magari vanno ad aggiungere qualche proteina così giusto per averla mangiata insieme alla montare di grassi sempre rimanendo in quella quantità di calorie poi terzo giorno quarto giorno volevo fare proprio tutta la settimana e poi arrivare a sostanzialmente sabato domenica prossima rilassarmi un pochettino questo è il mio programma sono carico come una molla come vedete quindi diciamo il mind flow positivo adesso io non ho guardato oggi i corpi kettonici prima di mangiucchiare qualcosina in più venerdì sera arriviamo a un livello di vabbè ma non lo voglio neanche dire alto corpi kettonici poi ci torneremo perché non è essenziale che siano alti non tutti li produciamo in nessun modo l'importante ragazzi guardatevi lo specchio guardate la bilancia prendete il giro ciccetta quindi centimetro girovita e guardate lì è risultato ma lo specchio già ve la dice però bisogna essere obiettivi con lo specchio invece girociccia il girovita il girociccia e come lo dichiamo io scherzosamente quello non mente io non vado lungo perché siamo già quattro minuti oltre vi saluto e ci aggiorniamo strada facendo vedete che questo mind flow positivo nonostante ci siano stati dei giorni molto molto immediativi ho avuto due o tre giorni dove mi sono un po rilassato finalmente e mi sono anche un po dedicato ai video ora diciamo sono tutte domande che mi derivano dal gruppo patreon vi ricordo lo dico così in chiusura se avete bisogno del mio diciamo così modestissimo aiuto per gli schemi fatemelo sapere con largo anticipo perché anche in quello sono rapido però diciamo così diciamo oltre a un certo livello non ce la posso fare quindi se no vi faccio aspettare troppo e patreon ragazzi siete un po timidi ultimamente siete sempre i soliti che mi stimolate argomenti eh vari eccetera eccetera corpi chetonici ci torniamo in settimana vi prometto ciao e una buona serata doc Andrea Rebiz eh chiamiamola cheto mediterranea siamo sempre in evoluzione questo è l'importante non sedersi mai andare avanti avere la possibilità di esplorare nuove situazioni nuovi territori grazie di essermi stato eh di essermi stati a sentire se siete arrivate fin qui un grazie doppio e un abbraccione perché vuol dire che siamo veramente quasi diciamo come se anche se non ci conosciamo direttamente con molti di voi come se ci conoscessimo ciao buona serata doc Andrea Rebiz I'm out ciao